Il totale tamponi sono 888.273 e andiamo nella direzione dei 900.000 tamponi come vedete sono esattamente rispetto a ieri 5.894 in più il numero dei positivi sono 19.250 persone in isolamento 758 meno 75 i ricoverati sono 221 meno 2 dei quali covid 30 dei 221 30 solo sono covid terapia intensiva cale ancora siamo arrivati a 11 dei quali 1 covid quindi 1 in meno rispetto a ieri degli 11 1 covid e 10 negativi i morti sono 2.004 una persona in più rispetto a ieri 1.425 in ospedale dei 2004 i dimessi sono 3.547 4 dimessi anche ieri i nati sono 98 1.848 3.548 3.548